Numerose segnalazioni su DownDetector sono emerse alle 15 di oggi 21 dicembre riguardo a difficoltà di accesso all'app e al sito d'intesa San Paolo. La natura precisa dei malfunzionamenti non è chiara poiché la banca non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Utenti provenienti da diverse città italiane come Roma, Milano, Napoli, Perugia, Bologna, Torino e Genova hanno riportato problemi di accesso e utilizzo dei servizi bancari tramite smartphone. Attualmente oltre mille utenti hanno segnalato tali inconvenienti. Su DownDetector uno dei commenti riporta un messaggio d'errore sull'app che indica un problema tecnico impedendo la visualizzazione del patrimonio. Al momento non sembrano esserci difficoltà nei pagamenti come dimostrato da un positivo acquisto con il POS.